Oddio, Kate, che ti è successo? L'ho mancato. Mi hanno avvelenata prima di sparare. V, chi era il bersaglio? Il capo supremo della Yakuza. Quanto tempo mi rimane? 14 ore, forse 15. Kate, andrà tutto bene? Da domani non dovrai più rispondere alle mie domande. Tu chi sei? Sono Kate. Chi mi ha avvelenata? Ho eseguito degli ordini. Gli ordini di chi? Come arrivo a lui? Lui non viaggia mai in superficie. Qualcuno lo sa. Ehi, lasciami! Ma che problemi hai? Devo trovare che mi ha fatto questo. Non potresti reagire neanche un'ora senza di me. Insieme li troveremo. Scopriranno che ero qui. Chi? Tutti quanti. Kate, tu sembri quasi uscita da un incubo. Non ti fai comandare da nessuno. Sei spaventosa. Una cazzottissima killer. Grazie. Quanto tempo abbiamo? Non molto. Non puoi fermarla. Bel colpo. Perché sorridi? State tutti per morire. Ma noi siamo in venti. Allora siete in minoranza. Svante. Svante.